...e usa principalmente tecniche e radianti, e se non l'aglio di chiare il punto. Questo è il punto che iniziamo la carta. Se lo pensate, se voi pensate alla forza dell'antel, stiamo da forno più semplice, sinistra a sinistra o destra a destra. Se lo pensate alla forza, lui è un po' di metodo, metodo, 95,000, 120,000, 70,000, 30,000, 30,000, 30,000, 30,000. Quello che si dovete fare è andare a raggiungere dove non c'è questo sozzo. E' chiaro che io ho in quanto in banco, ma io so che poi si fiuo che viene così totalmente, si mette un punto che non si sozza. E' chiaro che questa spirale, lei si muove in spirale. E' un po' di metodo, se vuoi mettere la forza, io decido che non ti ha la toglie l'energia, o pensa, dal centro e alla l'altra, e avendo le cose che ti senti. C'è un po' di metodo, se non c'è niente da controllare, 10 per 0 è 0, no? E' come quella prova che c'è il maestro al comunicato. E diceva, se io non c'è, lasciate la forza, tanto che lei non ha nessuna importanza della forza. Se voi mi mette, direi giù le mani, chiudete, 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 chiudete. Se voi partite da qua, è impossibile di salire. Bisogna dimenticare la forza, bisogna dimenticare. Voi non dovete mettere forza dove lui è forte, capito? E' lo stesso male quello da prendere, ad esempio. Due mani, se mettete forza, è impossibile muovere. Se da qui, se lasciate la forza, ma non sa cosa ha in mano, perché sente solo lo scrivere. E' piccolo di ceroli che crea un ceroli più bravi che alla fine la tecnica è la pianta. E questo è comunque un tiro, perché nella realtà lui pensa di prendere qui, ad esempio, ma in realtà non ha prendere dove voleva. Abbiamo cambiato, fa, finito. Prende di prendere qua, invece prende in alto. Ci sono questi sistemi tagliati per non solo agli altri. E' un po' un paese. Allora, facciamolo un altro più facile, per noi. Guardate bene. Questo è un po' un po' un po' un po'. Uno, due. Tutto qua.